Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it. La vitamina B12, indispensabile per il nostro organismo, può essere carente non solo nei vegetariani, ma anche nelle persone a di sopra dei 50 anni o in chi assume determinati farmaci. In questo video capiamo a cosa serve la vitamina B12, dove si trova, quando è possibile incorrere in carenza e quando è necessario assumerla sotto forma di integratore. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. La vitamina B12, la cui forma più stabile e comune è la cianocobalammina, è indispensabile per una serie di processi che avvengono nel nostro organismo, tra cui la produzione dei globuli rossi e delle altre cellule del sangue, la replicazione cellulare, la produzione di DNA ed RNA, il buon mantenimento della guaina mielinica dei neuroni, la sintesi dei neurotrasmettitori, il metabolismo di grassi e proteine e il mantenimento di corretti livelli di omocisteina. La vitamina B12 non può essere sintetizzata dal nostro organismo, per cui dobbiamo necessariamente introdurla con l'alimentazione. Né piante né animali però sono in grado di produrla. Sono in grado di farlo sono alcuni batteri che contaminano la terra e l'acqua, contaminando quindi a loro volta i vegetali ed entrando nella catena alimentare degli animali. Le attuali procedure di igienizzazione del cibo di origine vegetale che mangiamo fanno sì che questi batteri muoiano, eliminando del tutto la presenza di vitamina B12, che invece si accumula nei prodotti di origine animale e quindi nella carne, nel latte, nelle uova, nel pesce e nei molluschi. Alimenti di origine vegetale possono essere addizionati industrialmente con vitamina B12, come ad esempio avviene per alcuni cereali per la colazione, quindi in questo caso risultano una fonte utile di vitamina B12, cosa non valida per le alghe che invece contengono una forma di vitamina B12 che non è adatta per il nostro organismo. Il fabbisogno giornaliero di vitamina B12 non è molto elevato e si aggira intorno ai 2 microgrammi con delle variazioni in funzione di età e condizione fisiologica. Generalmente una persona onnivora che non abbia problemi nell'assorbimento riesce ad assicurarsi il fabbisogno giornaliero di vitamina B12. Inoltre il nostro organismo riesce ad immagazzinare una certa riserva di questa vitamina nel fegato, per cui eventuali carenze nell'alimentazione si iniziano a far sentire dopo 3-5 anni. Stabilire se c'è una carenza di vitamina B12 richiede un semplice dosaggio da prelipovenoso. Si considerano normali valori superiori a 200 pigogrammi per ml di sangue. Al di sopra di questi livelli ci si può considerare al sicuro dalla carenza grave di vitamina B12 che sfocia nell'anemia perniciosa, della quale parleremo tra poco. In realtà però esiste una zona grigia nella quale si è comunque al rischio di sviluppare problemi al sistema cardiovascolare e nervoso. Per evitare questi rischi i livelli di vitamina B12 dovrebbero essere superiori a 488 pigogrammi per ml. Un eccesso di vitamina B12 è un evento raro e generalmente associato a malattie del fegato e dei reni o a un'eccessiva assunzione di vitamina B12. La carenza di vitamina B12 è un'eventualità che può verificarsi in diverse situazioni e può manifestarsi in modo diverso a seconda della gravità della carenza. La manifestazione più grave, per fortuna attualmente rara, è l'anemia perniciosa. In questa forma di anemia i globuli rossi sono pochi e molto grandi. I sintomi vanno da anemia, pallore e ittero a manifestazioni molto gravi a livello neurologico con danni irreversibili. Anche se la carenza non è grave, ma è prolungata nel tempo, possono verificarsi danni a livello del sistema nervoso. Possono dipendere dalla carenza di vitamina B12, anche disturbi visivi, cognitivi e la depressione. Valori ridotti di vitamina B12 sono correlati inoltre all'aumento dei livelli di omocisteina che, come abbiamo visto in questo video, è un fattore di rischio cardiovascolare. Le cause della carenza di vitamina B12 possono essere collegate a deficit dell'assorbimento o a carenze nutrizionali. L'assorbimento della vitamina B12 è un processo molto complesso, che richiede tra i tanti fattori la presenza di un corretto pH acido a livello dello stomaco e la produzione, sempre da parte delle cellule dello stomaco, di una proteina, il fattore intrinseco, il cui compito è quello di legare la vitamina B12 per permetterne poi l'assorbimento a livello dell'intestino. Nelle persone, in cui si ha deficit della produzione di fattore intrinseco per una caratteristica proprio della persona, oppure perché ha subito un intervento come la resezione gastrica, ovviamente non si può avere l'assorbimento della vitamina B12. Generalmente in questi casi si manifesta rapidamente la forma più grave di carenza, quindi l'anemia perniciosa. Difetti dell'assorbimento però possono manifestarsi anche in chi assume farmaci inibitori di pompa, che diminuiscono l'ambiente acido dello stomaco, oppure in chi assume la metformina, un antidiabetico molto utilizzato. Una diminuzione della capacità di assorbimento della vitamina B12 comunque si osserva anche in persone che non hanno alcuna problematica a partire dai 50 anni di età. Per questo motivo a partire dai 50 anni si consiglia il dosaggio della vitamina B12 nel corso delle analisi. In caso di dieta vegetariana e vegana si manifesterà sicuramente una carenza di vitamina B12. Anche nei vegetariani che assumono latte e uova infatti l'apporto è insufficiente e alla lunga si manifesterà una carenza. Per chi intraprende questo tipo di dieta quindi è necessario assumere un integratore di vitamina B12. Un'integrazione di vitamina B12 può essere necessaria sia come mantenimento che come fase d'attacco quando si sia già verificata una carenza. In entrambi i casi bisogna ricorrere al consiglio del medico o del nutrizionista. A titolo informativo vediamo quali sono forme e dosaggi consigliati. A questo link trovi una selezione dei migliori integratori di vitamina B12 su semprefarmacia.it. In commercio è molto frequente trovare degli integratori a base di cianocobalammina, la forma più stabile di vitamina B12. Un'ampia letteratura ne dimostra l'efficacia. In alcuni integratori invece la vitamina B12 è nella sua forma attiva la metilcobalammina. Inoltre gli integratori possono essere sotto forma di capsule, compresse deglutibili o compresse orodispersibili per favorirne l'assorbimento. In fase di mantenimento, ad esempio per una persona che inizia una dieta vegana partendo dai livelli di B12 normali, si consiglia l'assunzione di 1000 microgrammi due volte la settimana o 50 microgrammi ogni giorno. Sembrano dosaggi molto differenti, ma in realtà la quantità di vitamina B12 assorbita sarà la stessa. In fase d'attacco, quindi quando è già presente una carenza, si consiglia l'assunzione di 1000 microgrammi al giorno. Abbiamo visto quali sono i livelli normali ed ideali di vitamina B12, cosa succede in caso di carenza e come rimediare. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottorissa Valentina di semprefarmacia.it. La tua farmacia sempre con te